Sono Simone Branca e sono felicissimo di essere qui, di essere l'obiettore dell'Alessandria. Cercherò di portare l'entusiasmo a voi tifosi e a noi come squadra in campo. Ciao a tutti, sono Manuel Fischnaller, Alto Attesino Verde di Bolzano. Sono contentissimo anch'io di essere qua e non vedo l'ora di iniziare una nuova avventura insieme a voi. Forza Ging!